Siamo qui per parlare della tattica di Juventus-Atletico Madrid, una gara che finalmente dopo tante, tante, tante gare in cui non avevamo avuto quella brillantezza necessaria per, diciamo, essere Juventus, finalmente la Juve ha fatto intravedere delle cose veramente molto, molto positive. Ovviamente, ragazzi, innanzitutto volevo dirvi una cosa. La tattica, come al solito, non ha nulla a che fare con il risultato, quindi parleremo di tattiche inerentemente ai movimenti dei ragazzi e non al risultato. Cominciamo a parlare del primo tempo, perché dobbiamo fare una piccola premessa dentro del primo tempo. La Juventus ha completato nel primo tempo quasi 400 passaggi, quindi stiamo parlando di numeri importanti. Possesso palla che era al 73, forse anche 74%, quindi veramente il possesso palla ferrato, veramente serrato, scusate, della Juventus, che ha, diciamo, introdotto questo nuovo sistema di passaggi, una sorta di tiki-taka in versione, diciamo, più sarriana, che sinceramente, almeno all'inizio, aveva dato i propri frutti. Cioè, la Juve ha fatto 20 minuti in cui, pur tirando poco in porta, aveva comunque dominato in lungo e in largo l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid ogni tanto aveva provato qualche piccola controoffensiva, aveva provato ad affacciarsi lì davanti, con Morada che attaccava la profondità, con Thomas Parti che riusciva ogni tanto a scardinare la nostra mediana, perché Pjanic non ha, diciamo, quella fisicità per reggere Thomas. Ma la realtà delle cose è che l'Atletico Madrid ieri non ha fatto veramente niente di particolarmente importante, specie nel primo tempo, in cui veramente gli uomini di Simeone sono apparsi impacciati, mentre gli uomini di Sarri sono apparsi invece belli ringalluzziti, belli in forma. Ma poi, nei minuti di recupero del primo tempo c'è stato quel gran gol che si è inventato Paolo Di Bala, sul calcio di punizione, da posizione, credo si può dire, posizione siderale, visto che stiamo da una posizione, non dico impossibile, ma veramente quasi impossibile, una giocata di alto livello, che francamente mi ha fatto urlare qui in camera come se fosse un ossesso, tanto che una mia amica è venuta e dice, Matt, ma che cazzo roba succede? No, niente ha segnato Di Bala, sapete che non sono a casa e quindi ragazzi mi perdonerete anche lo sfondo bianco. È una cosa veramente molto interessante, quella invece che dobbiamo analizzare direttamente i tiri in porta, cioè la Juve è passata in vantaggio alla fine del primo tempo, pur avendo tirato molto meno in porta tra la Tredico Madrid. La Tredico Madrid ha tirato in porta 7 volte durante il primo tempo, la Juve ha tirato in porta 4 volte, ed è l'unica cosa che effettivamente posso dire non mi sia piaciuta del primo tempo, perché alla fine scambi, scambi veloci, scambi nello stretto sono andati veramente molto, molto bene. Il problema è che la Juve dovrebbe concretizzare di più, cioè dovrebbe arrivare di più al tiro, dovrebbe essere un pochino più veloce lì davanti, è quello che manca secondo me per vedere un determinato tipo di gioco che noi vorremmo vedere comunque con Sarri in panchina. Per quanto riguarda il secondo tempo, la cara non ha subito grandi variazioni, devo dire la verità, rispetto all'andazzo del primo tempo, cioè la Juve sicuramente verso gli ultimi 20 minuti ha subito un po' di stanchezza inerentemente al fatto che è impossibile ragazzi fare 90 minuti, tit 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 tit, chitaga a destra e a sinistra, quindi è normale che dopo 70-75 minuti in cui tu giochi ad alta intensità, è normale che tu possa avere anche dei problemi a livello fisico, ma non perché siano problemi riparabili, però comincia a sentire un po' di latte alle ginocchia, quindi comincia a sentire un pochino di, comincia a sentire la cartilagine che viene via, dicono al mio paese, quindi è normale che da questo punto di vista la Juve abbia avuto un piccolo calo verso la fine, ma non è stato un grande calo che ha pregiurigato il risultato, è stato comunque un calo fisiologico, ecco, di semplice carattere fisico. Poi, nel secondo tempo, secondo me, i primi 20 minuti del secondo tempo la Juve li ha fatti bene, soprattutto proprio dal punto di vista tattico, perché è stata organizzata tatticamente secondo me molto bene, l'unica cosa che non mi è piaciuta nel secondo tempo è stata una certa indolenza per quanto riguarda il possesso palla, cioè secondo me il possesso palla è stato migliore nel primo tempo rispetto al secondo. Al secondo tempo vorrei che ci fosse un pochino più di velocità, di voglia, di pragmatismo, cioè non vorrei che dopo aver segnato si raggiungesse un livello in cui diceva, beh, tanto abbiamo segnato, facciamo quello che vogliamo, no, no, continuiamo a rimanere sul pezzo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, vi è piaciuta la Juventus tatticamente oppure no? Ah, l'ultima cosa che volevo dire, veramente quanto è importante la presenza di giocatori diversi sulla mediana. Nella prima partita in cui la Juventus ha schierato Bentancur e non Chedira, nonostante ci fosse la presenza di Matuidi, Bentancur ha giocato molto bene, veramente ha giocato veramente molto bene, poi giustamente non sto qui ad analizzare la prestazione del dettaglio, perché per quella ci saranno le pagelle che gireremo, ma devo dire che Bentancur ha giocato veramente molto bene. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa volete, cosa dite, insomma fatemi sapere, è piaciuta la Juventus o no?